Io credo che ogni domenica avremo un esame da superare e noi ci prepariamo per questo. Ancora il campionato non è entrato nel vivo, sicuramente abbiamo messo un mattone importante perché dare continuità ai risultati, dare continuità alle prestazioni è sempre un lato positivo. Noi continuiamo a lavorare sapendo che questo campionato è molto molto difficile, sapendo che le avversarie, anche come domenica, questo Gragnano che è partito male però ha una squadra importante per questa categoria, c'è Conatè, c'è Santaniello, c'è Martone, c'è Tabascio che è squalificato, giocatori importantissimi per queste, le napoletane si sono tutte attrezzate per fare un campionato di vertice ma noi vogliamo fare la nostra parte, siamo convinti di avere delle qualità e la qualità più importante secondo me è questa voglia di far parlare di sé, di essere un gruppo compatto, un gruppo che si vuole sacrificare per questa società, per questa maglia ma soprattutto per se stessi, credo che l'orgoglio personale va oltre alle cose. E noi continuiamo così con grande serenità, con grande voglia di lavorare per ottenere qualcosina, io dico sempre, noi dobbiamo lavorare per far parlare di noi. E se vogliamo domenica prossima la terza trasferta consecutiva perché arrivavate dalla vittoria conquistata in trasferta con i due torri, avete giocato sul campo neutro di Leonforte anche se in casa dunque in trasferta e adesso arriva un'altra trasferta nel napoletano. Sì, sicuramente il Presti è, quando ho presentato alla squadra il progetto Infantino, il progetto Gela Calcio, al primo posto ho messo la curva Angelo Boscaglia e il Presti. Credo che quella è la forza di questo gruppo di lavoro, perché credo che noi abbiamo formato un'unione importante per superare scoglio dopo scoglio questo campionato. Credo che il Presti per noi, questo gruppo che ci viene sempre a sostenere, deve essere una forza che ci fa, dico, una forza che ci dà la forza per far uscire qualcosina in più da noi. E credo che noi ci prepariamo per affrontare partita dopo partita. Sicuramente le trasferte sono tutte difficili, però ho detto sempre di lavorare su noi stessi, dobbiamo avere un'identità di gioco, dobbiamo avere un'identità di intensità di gioco, dobbiamo avere quella caratteristica di aggressione all'avversario, di giocare molto alti, di giocare sempre una fase molto propositiva, se no non puoi essere protagonista in questo campionato, non puoi essere il genere.